Assessore Roberti, oggi a Corno di Rosazzo l'inaugurazione di un'opera pubblica che manifesta e testimonia la rapidità di esecuzione e la presenza della regione con un contributo importante. E' piacevole ogni tanto rimanere stupefatti dalla rapidità che riescono a avere le istituzioni quando si tratta di dare delle risposte concrete ai cittadini e in questo caso particolare agli atleti e ai giovani. Un'opera immaginata ad agosto del 2021, nel giro quindi di un anno e qualche mese, progettazione, richiesta di fondi da parte della regione, concessione di quei fondi dalla regione al comune, realizzazione e oggi l'inaugurazione che stiamo svolgendo qua a Corno di Rosazzo. E la partecipazione di pubblico che c'è, di tanti atleti, giovanissimi atleti pronti a provare la pista dimostra il fatto che era un'opera necessaria, soprattutto in un contesto nel quale piace ricordarlo, non soltanto siamo appunto in mezzo a un complesso sportivo, ma un complesso sportivo che sta crescendo e aumentando sempre di più la quantità di struttura a disposizione della cittadinanza con altre opere sempre finanziate durante questa legislatura. Lei ha parlato di un metodo di relazione fra gli enti locali e la regione, un metodo di condivisione che consente poi la realizzazione di opere come queste. Penso che sia essenziale, non c'è nessuno che può conoscere il proprio territorio come lo può conoscere un sindaco che in quel territorio ci governa, ci vive, ci governa. Per la regione poter essere presente nelle interlocuzioni costanti con i primi cittadini vuol dire sapere esattamente quali sono le necessità, le reali richieste da parte del territorio e quindi mirare i finanziamenti più azzeccati e nelle tempistiche migliori. Questo è un metodo che applichiamo dall'inizio della legislatura e del metodo che vogliamo continuare anche nelle ultime manovre che avremo a disposizione nel corso di questa legislatura.